Tutte le persone devono avere il diritto di accesso al mare, questo è quello che avevamo detto e proprio perché come stanno dicendo i cittadini qui dietro il territorio è nostro, il territorio è delle persone e quindi noi siamo d'accordo e apriamo i varchi. Questa è la nostra visione della legalità, della gestione trasparente degli atti amministrativi ed è quello di cui Ostia ha bisogno. Ostia è una città che d'estate diventa più grande della città di Firenze e deve avere tutta la nostra attenzione.